E un piano con una catena di comando chiara che ci accompagna alle riaperture. Guardi, mi è piaciuto da morire l'intervento dell'intellettuale. O facciamo queste due semplici cose, grandissimo, o facciamo liquidità e un piano serio di ritorno alla vita, o l'illusione che si è creata nei cittadini, dicendo basta stare due mesi a casa e si risolve tutto, si trasformerà in rabbia sociale. Per cui su queste due cose noi siamo disponibili a collaborare. Però, ripeto, andiamo anche ascoltati. Sì. Allora, vado da Castaldo. Castaldo, le voglio chiedere una cosa.